La cantante Albano sarà sicuramente felice per il suo 77 compleanno, quando entrambe le mogli Romina Power e Loredana Leciso mostrano grande amore per il loro meraviglioso marito. Albano compie 77 anni e Romina Power lo sorprende con un gesto che supera quello di Loredana Leciso. Romina Power sorprende Albano con una sorpresa in occasione del suo compleanno e batte Loredana Leciso. Se la showgirl pugliese ha scelto di festeggiare pubblicamente il cantante con un post su Instagram, l'ex moglie ha fatto di più, postando lo scatto di una torta personalizzata. L'artista ha celebrato i suoi 77 anni con tutta la famiglia a Cellino San Marco. Una ricorrenza importante che non poteva essere ignorata dalle due donne della sua vita, Loredana Leciso e Romina Power. La prima a fare gli auguri ad Albano è stata la showgirl e mamma dei figli Jasmine Bido. Su Instagram ha postato uno scatto di coppia, scrivendo, buon compleanno al, con tanto di cuoricini rossi. Il silenzio dell'attrice americana aveva fatto discutere e in molti l'avevano collegato al ritorno di fiamma fra Carisi e Loredana Leciso. Nel frattempo, Romina Power ha un modo più speciale di esprimere affetto rispetto a Loredana Leciso. A quanto pare però i rapporti fra gli ex non sono cambiati, nonostante tutto. Romina infatti ha postato su Instagram uno scatto che racconta la sorpresa fatta ad Albano per i suoi 77 anni, una torta personalizzata ispirata alla musica con tanto di candeline. Tanti auguri Albano, tanti auguri a te e yee, ha scritto l'attrice americana, celebrando il compleanno dell'ex marito. Anche se un po' soffocato, ma ha espresso l'amore sincero di Romina con il suo ex marito. Insomma, sembra proprio che il legame fra Romina e Albano non sia stato messo alla prova dal ritorno di fiamma del cantante con Loredana Leciso. Così tanto che la Power ha organizzato una sorpresa per lui nel giorno del compleanno. D'altronde cancellare quasi 30 anni di matrimonio è impossibile. Un amore nato sul sete e coronato dalle nozze nel 1970, quattro figli e un grande dolore, quello per la scomparsa di Ilenia, che i due hanno affrontato insieme. Oggi Romina e Albano, dopo una lunga separazione, sono di nuovo uniti. Lei vive a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante che definisce la mia famiglia. Lui ha riscoperto i sentimenti per la Leciso e i due oggi sono molto felici, ma non dimentica il rapporto con l'attrice americana. Per anni il triangolo amoroso Albano-Romina-Loredana ha dominato le cronache rosa e probabilmente continuerà a farlo ancora per molto. Albano è la scelta della squadra di Loredana Leciso sbagliata? Forse a un certo punto ripensando ai bei giorni, Albano capirà la verità chi è la donna che lo ama di più. Si può dire che Romina Power è una donna molto leale e che merita cose molto migliori di così. E' un certo punto ripensando ai bei giorni.